Scarpetta Scodinzola Felice si trova a Galliera Veneta e finalmente potrà tornare a vivere con la sua padrona. La donna, 56 anni, era stata costretta a un lungo ricovero all'ospedale di Schiavonia e si era quindi dovuta separare dalla sua amatissima cagnolina. Affidata dal comune di Est al rifugio per animali di Merlara, è stato grazie all'aiuto del medico dell'ospedale che aveva in cura la signora, che d'ora in poi Scarpetta potrà vivere per sempre con la donna nella comunità di Galliera Veneta. Da Merlara Scarpetta è arrivata a Presina, rifugio San Francesco e nel pomeriggio di giovedì è ritrovato la donna, testimone dell'evento, Giovanni Tonnellotto. La signora e la cagnolina facevano a gara a dimostrarsi affetto, attaccamento. La donna ha detto poche profonde parole. Scarpetta, tu ed io non ci lasceremo più. Io vivo per te e tu vivi per me. Il grazie va a chi ha reso possibile la realizzazione di un sogno.